buongiorno benvenuti a teatro per cortesia i biglietti nominali si la carta d'identità grazie il codice fiscale per cortesia la tesserina quella lì la sapete voi controlliamo se è ancora valida perché sapete a volte qualcuno cerca di fare il furbo le analisi del sangue per favore la tessera sanitaria ora il controllo dell'iride e metta anche il dito nel cursore per l'impronta digitale nel frattempo saltelli su una gamba sola e canti l'inno nazionale italiano e pensi mentalmente grande il nostro precedente è grande i nostri sensori controlleranno se lo sto pensando veramente addizionale per avere i posti davanti un litrino di sangue ce l'avete no sangue di cavallo non va bene deve essere proprio il vostro perfetto è tutto in regola ora verrà una guardia e un collaboratore ad accompagnarvi al vostro posto siete liberi di entrare vieni a teatro vieni si respira la vita